Io posso parlarvi solo della vicenda che mi ha coinvolto e che ha portato via mio figlio. I poliziotti che l'hanno ucciso sono stati condannati ma poi sono stati riammessi in servizio. Questo ha poi, in un congresso di ieri, che era per l'elezione di quello che poi è diventato presidente, che ha fatto di questa vicenda la sua campagna elettorale, ha portato molte persone ad applaudire, molte persone che sono poliziotti, che vestono una divisa, che sono persone su cui io vorrei poter contare, li ha portati ad applaudire degli assassini.